L'università è molto importante per gli argomenti che vengono trattati oggi in questo evento molto interessante che riguarda appunto il rischio idraulico e idrogeologico, in particolare organizzato dall'Ambi. Ma l'università ha un ruolo importante perché ha il ruolo appunto di conoscere questi fenomeni che attraverso appunto la conoscenza possono portare poi a trovare soluzioni per affrontarli nella maniera migliore. La conoscenza indubbiamente è l'elemento fondamentale, la conoscenza porta alla consapevolezza e quindi alla responsabilizzazione anche. Quindi credo assolutamente che l'università si debba impegnare sempre di più ovviamente nell'alta formazione ma non solo, anche nella collaborazione fattiva con tutti gli enti che operano sul territorio su questi temi.